Musica Prima di mettervi in viaggio andate a trovare i vostri nonni, fate una visita ad un anziano. La sua preghiera vi proteggerà, così Papa Francesco ha i ragazzi in partenza per la GMG di Lisbona. Oggi con me in paradiso il tema della 41esima marcia francescana che si terrà in Puglia dal 25 luglio al 4 agosto, un'iniziativa dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Acea e Acquedotto Pugliese hanno firmato un memorandum per sviluppare collaborazioni e progetti relativi alla tutela della risorsa idrica. Le vendite all'estero dell'olio extravergine di oliva di Puglia confermano la tendenza positiva già avviata lo scorso anno, con un incremento nel 2023 già del 35%, lo rivela l'Accol di Retti Puglia. Cuore, tumore e farmaci e la loro interazione. Se ne è parlato all'Istituto Tumori di Bari, Giovanni Paolo II. Musica Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Teledeon. Prima di mettervi in viaggio andate a trovare i vostri nonni, fate una visita ad un anziano solo. La sua preghiera vi proteggerà e porterete nel cuore la benedizione di quell'incontro. Papa Francesco si rivolge così ai ragazzi che andranno a Lisbona per la giornata mondiale della gioventù. Ascoltiamo. Non priviamoci della loro compagnia e non priviamoli della nostra, non facciamoli sentire scarti. È questo il messaggio del Papa rivolto ai giovani che andranno a Lisbona per la terza giornata mondiale dei nonni e degli anziani e che si celebrerà il prossimo 23 luglio. Il Pontefice ancora una volta in questa giornata da lui stesso istituita nel 2021 torna a ribadire l'importanza di allacciare o riallacciare i legami con gli anziani che sono memoria e radice della società e della vita personale di ognuno. Sono loro infatti a trasmetterci l'appartenenza al popolo santo di Dio, continua Francesco. La Chiesa, così come la società, ha bisogno di loro. Essi consegnano al presente un passato necessario per costruire il futuro. Non lasciamoli soli, insiste Bergoglio. La loro presenza nelle famiglie e nelle comunità è preziosa. Ci dona la consapevolezza di condividere la medesima eredità e di far parte di un popolo in cui si costudiscono le radici. L'amicizia di una persona anziana aiuta il giovane a non appiattire la vita sul presente e a ricordarsi che non tutto dipende dalle sue capacità. Per i più anziani, invece, la presenza di un giovane apre la speranza che quanto hanno vissuto non vada perduto e che i loro sogni si realizzino. Anche agli anziani stessi il pontefice avanza una richiesta. Accompagnare con la loro preghiera i giovani che stanno per celebrare la giornata mondiale della gioventù. Quei ragazzi, conclude il Papa, sono la risposta di Dio alle vostre richieste, il frutto di quel che avete seminato. I tarantini hanno superato la differenza iniziale verso l'altro e anche la diocesi ha contribuito a rendere efficace l'integrazione degli immigrati. Lo ha raccontato Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo metropolita di Taranto. Si può immaginare, si può desiderare, possiamo lavorare per farlo. Però perché non sia un luogo di morte, prima di essere un luogo di scambi commerciali, deve essere un luogo di incontro di culture, in cui si mette al centro il rispetto della persona, il rispetto della storia di un popolo, il rispetto dei modi di vita, la capacità di accoglienza. C'è un lavoro culturale che va svolto e quello che questo incontro tende a fare è proprio un approfondimento delle radici culturali, sia del dialogo ecumenico, sia del dialogo interreligioso. Perché se non si sposta l'asse del confronto, del dialogo, dall'economia alla cultura, all'incontro della vita, non si va da nessuna parte. E' possibile e spinti dal Papa lo possiamo fare. La sua Taranto ospita un hub di accoglienza, di primo soccorso dei migranti. Eppure c'è tanta diffidenza da parte anche dei tarantini. Come si fa a superare questo gap della non conoscenza facendolo diventare punto d'incontro? Beh, dei tarantini agli inizi, quando sono arrivati con le mascherine, con tutte le cose, c'è stata una grossa diffidenza, però poi c'è stata un'accoglienza. Poi c'è una struttura di accoglienza dei minori non accompagnati, proprio della diocesi molto buona per un inserimento nel territorio. E bisogna superare il primo ostacolo e quindi poi si incontra, si apre, si lavora, si collabora. Oggi con me in paradiso è il tema della 41esima marcia francescana che si terrà in Puglia dal 25 luglio al 4 agosto. Un'iniziativa dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Il servizio. Un cammino in sette tappe, un viaggio che metterà uno accanto all'altro tra preghiere e sorrisi. Chi ha scelto di vivere seguendo le orme di San Francesco e chi decide di viverlo animato dalla condivisione di fatiche e gioie. La 41esima marcia francescana si terrà in Puglia dal 25 luglio al 4 agosto prossimi. I protagonisti saranno i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che partendo da Conversano toccheranno di passo in passo Putignano, Turi, Castellanagrotte, Alberobello, Fasano, Monopoli, per poi raggiungere il 2 agosto, giorno del perdono, Assisi. Oggi con me in paradiso sarà il tema della 41esima marcia francescana. È un'esperienza bellissima che anche quest'anno vivremo nella nostra bellissima terra di Puglia. Un'esperienza che nasce da Francesco d'Assisi, un giovane che sogna. I suoi sogni prima della conversione sono stati sempre esclusivi, come quello di scendere in Puglia per combattere questa quarta crociata, che poi non andrà in porto. Poi col tempo i suoi sogni diventeranno inclusivi e uno dei più belli è proprio quello di portare tutti in paradiso. Questo sogno si concretizzerà proprio con Papa Onorio III, che gli donerà l'indulgenza. Quindi tutti coloro che il 2 agosto entreranno alla Porziuncola, a Santa Maria degli Angeli, confessati, riceveranno questo grande dono. Il momento centrale della marcia sarà l'ingresso dei giovani nella piccola chiesetta della Porziuncola, poi il ritrovo festoso sul sagrato di Santa Maria degli Angeli per vivere insieme la gioia dello spirito francescano. Come fare a partecipare? Per partecipare puoi contattarci al numero 366 27 44 846. So che partire per una marcia francescana è sempre difficile e spaventa, ma a me spaventa sempre più rimanere da soli a celebrare la propria solitudine. Acea e Acquedotto Pugliese hanno firmato un memorandum per sviluppare collaborazioni e progetti relativi alla tutela della risorsa idrica. Sentiamo. Acea e Acquedotto Pugliese, i due principali operatori italiani nel settore del servizio idrico integrato, hanno firmato in occasione del Water Innovation Summit un memorandum per lo sviluppo congiunto di progetti di collaborazione sul tema della tutela della risorsa idrica, dell'innovazione tecnologica e degli aspetti regolatori del settore. Significa mettere insieme il meglio delle esperienze in questo campo in Italia, soprattutto avendo questo paese una storia, posso dire, millenaria nel campo della gestione dell'idrico. Credo che su questo possiamo fare tanto in termini di proporre soluzioni anche a livello nazionale su come normalizzare e trovare anche soluzioni normative funzionali a risolvere il problema, ma anche soluzioni dal punto di vista di ottimizzazione tarifaria, per cui economico-finanziaria e soprattutto poi tecnologica, perché oggi i prossimi anni saranno cruciali in termini di investimenti sulle nuove tecnologie. Scambiarsi e lavorare insieme sulle soluzioni può essere veramente molto utile e con effetti benefici per tutto il sistema. Con il memorandum, che ha una durata di due anni, si dà avvio ad uno scambio di informazioni e di dati, oltre che ad un'attività di approfondimento su possibili collaborazioni. Le due aziende sono grandi, sono le prime e la seconda azienda italiana, ognuno con caratteristiche differenti. Noi siamo più complessi come acquedotto perché abbiamo gli invasi e gli adduttori lontani, loro hanno una gestione però più grande perché hanno più acquedotti e un territorio come Roma che comunque ha la sua importanza. Quindi la complessità fa sì che lo stare insieme trasferisce queste buone esperienze agli altri. Le vendite all'estero dell'olio extravergine di oliva in Puglia confermano la tendenza positiva già avviata lo scorso anno, con un incremento nel 2023 già del 35%. Lo rivela la Col di Retti Puglia. Sentiamo. Nel 2023 il valore delle esportazioni nel mondo dell'olio di oliva di Puglia è aumentato del 35%, un dato che conferma così anche quest'anno l'ottima performance del prodotto simbolo della dieta mediterranea e quanto emerge da un'analisi di Col di Retti Puglia sulle vendite all'estero di olio extravergine di oliva pugliese nei primi tre mesi del 2023 a fronte di una crescita del 30,4% dello scorso anno. Diffondere la cultura dell'olio extravergine di oliva fra i turisti e i consumatori e supportare la crescita continua della filiera dell'olio in Italia e all'estero è il nostro obiettivo, ha commentato Savino Muraglia, presidente della Col di Retti regionale, perché i consumatori sono affamati di informazioni e conoscenza sul mondo dell'olio. Inoltre Muraglia ha ricordato che l'olivo pugliese è presente su oltre 370.000 ettari di terreno coltivato con 5 oli extravergine DOP e 1 IGP olio di Puglia, l'olivicoltura pugliese che è la più grande fabbrica green del mezzogiorno d'Italia, arriva dito Muraglia. Si stima che in media i cittadini utilizzano 8 chili a testa di olio extravergine di oliva e ogni famiglia spende circa 117 euro all'anno per acquistarlo e oltre il 97% degli italiani lo ha utilizzato almeno una volta nell'ultimo anno. Il consiglio dell'Associazione Agricola Pugliese è quello di diffidare dei prezzi troppo bassi, acquistare extravergine a denominazione di origine DOP e IGP, quelli in cui è indicato esplicitamente che sono stati ottenuti da olive italiane o di comprare direttamente dai produttori olivicoli. E infine serve responsabilità da parte dell'intera filiera alimentare, conclude Col di Retti Puglia. Con accordi tra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più equa ripartizione del valore per salvare le aziende agricole e tutelare i consumatori. All'Istituto Tumori di Bari si è tenuto un convegno sui meccanismi che regolano le interazioni tra cuore, tumore e farmaci. L'approccio integrato al paziente affetto da neoplasia coinvolge, oltre all'oncologo o all'onco-ematologo, molte altre figure professionali mediche col compito di garantire la salute del paziente durante il percorso di cure ed il follow-up. Tra queste figure professionali, il cardioncologo è forse la più importante. Per effetto diretto e indiretto della malattia o di alcune terapie antiblastiche efficaci, infatti, il paziente potrebbe trovarsi durante il suo percorso, attraverso la malattia oncologica, ad affrontare un problema cardiaco o vascolare, allora capace di compromettere la prosecuzione delle cure stesse o la vita del paziente. Noi sappiamo che con le nuove cure, con le nuove terapie, con le nuove tecniche chirurgiche è sempre più possibile arrivare alla lungosopravvivenza e addirittura alla guarigione della malattia. Ma molto spesso capita che questi pazienti guariti o lungosopravviventi abbiano delle complicanze cardiologiche. Quindi intervenire prima, intervenire bene è il must di questo congresso. Per approfondire i meccanismi che regolano le complesse interazioni tra cuore, tumore e farmaci, l'unità operativa di cardiologia dell'Istituto Tumori di Bari ha organizzato un corso con argomenti di stretta attualità clinica e scientifica. Tutti i nostri convegni, l'argomento che emerge sempre è la necessità di una multidisciplinarietà, di una intersezione professionale e di skill professionali proprio per ottenere un principio che è al centro della nostra attenzione quotidiana, cioè la multidisciplinarietà è la presa in carico globale del paziente. In occasione della giornata della festa della musica a Trani in Piazza Duomo si è tenuto un concerto di beneficenza della fanfara del Comando Scuole Auronatica, militare terza regione area di Bari. Si tiene ogni anno il 21 giugno la manifestazione popolare che celebra il solstizio d'estate ed è promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo. Per il centenario della Costituzione dell'Auronatica militare, la città di Trani ha inteso promuovere questa iniziativa con finalità benefiche. Durante la serata infatti è stata avviata una raccolta fondi in favore dell'Associazione di Volontariato ARGES che si occupa di assistenza domiciliare per pazienti oncologici. Oggi, chiaramente la festa della musica, festeggiamo i cent'anni anche dell'Auronatica militare per cui chiaramente non lo potevamo fare che in questo modo lo riteniamo nel migliore del mondo. Direi che questa iconica location della cattedrale romanica in Trani meritava un omaggio da parte nostra in occasione del centenario dell'Auronatica militare, essere qui con la Felfara nel giorno che celebra la festa della musica è qualcosa davvero memorabile. Si chiude qui questa prima edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.